La straordinaria opportunità di avvicinare i giovani al lavoro, la vorremmo anticipare. Garanzia Giovani ora consente di lavorare con tutte le persone fino a 29 anni, ossia generare degli inizi di carriera professionale fino a 29 anni. Secondo noi è troppo. Vorremmo che la prima occasione di lavoro avvenisse in un'età molto più giovanile. E' per questo che ci stiamo impegnando con molti partner, a Solombarda e tra questi, Italy tra poco, ad avviare delle occasioni di utilizzo di Garanzia Giovani su giovani 15 anni, 16 anni, 17 anni, perché quella è l'età giusta per entrare per la prima volta nel mondo del lavoro, non a 29 anni. In Lombardia abbiamo preso in carico con Garanzia Giovani, che è stata attivata a fine ottobre del 2014, circa 400 utenti, di cui 171 sono già stati avviati all'interno dei tirocini nelle nostre aziende clienti. Come a Solombarda siamo impegnati sul tema dell'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo collaborato e stiamo tuttora collaborando con Asso Frigoristi e Galdus per realizzare dei profili formativi coerenti con le esigenze delle aziende di questo comparto. Il punto principale, secondo noi, è che serve un mediatore tra la piccola impresa e chi deve imparare il mestiere e chi aiuti l'imprenditore a trasferire il proprio sapere. La Germania, grazie al sistema duale, ha una disoccupazione giovanile veramente sotto l'8%. Secondo me il sistema duale tedesco è anche molto ben applicabile qui in Italia, sia per tradizione, sia per l'interesse del terreno molto fertile. Con anche talte piccole aziende che hanno dei piccoli fabbisogni di personale, anche formato, anche qualificato, vi si riesce a dar risposta organizzando percorsi formativi ad hoc e quindi potendo prepararli al meglio per inserirsi nel mondo del lavoro. Abbiamo utilizzato molto questa opportunità che è rappresentata da Garanzia Giovani. Abbiamo ad oggi inserito più di 260 ragazzi nel mondo del lavoro. Una percentuale, intorno al 20%, ad oggi, di questi ingressi nel mondo del lavoro si è già trasformata in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in alcuni casi, contratti di apprendistato in atto o contratti a tempo determinato, comunque lavoro subordinato. Cosa c'è dentro questo zainetto che vi portate in dote? C'è un bonus che possiamo presentare all'azienda. Questo bonus vale 1200 euro. Io penso che sia positivo perché per noi, soprattutto per i neodiplomati, per conoscere, per entrare nel mondo del lavoro.